Cosa incredibile perché qui stiamo parlando non di un piccolo comune, ma di un comune di 210.000 abitanti dove il sindaco, il sottoscritto, eletto dopo due anni e mezzo, è stato mandato a casa in una notte, in una congiura di palazzo, con le firme raccolte davanti al notaio e presentate la mattina, proprio il giorno in cui c'era la manifestazione di Firenze, in cui c'era Parisi a Padova. Coincidenze? Ma io direi assolutamente no. Quello che è incredibile è che due consiglieri di Forza Italia abbiano mandato a casa il sindaco, insieme al PD, insieme a Cinque Stelle. Mi pare una cosa che non si deve fare, non si può fare. Questi due signori da Forza Italia, quindi vuol dire che il partito a livello nazionale non è d'accordo. Guardi, io sono stato ospite di questa trasmissione più volte, ci conosciamo bene. L'amministrazione è un'altra cosa, cioè governare le città è già molto difficile. Poi se si mette continuamente in mezzo la politica di palazzo e queste cose, come si fa a mandare una città di Moepadova a un commissariamento di sei mesi? A parte che hanno sbagliato i tempi perché a maggio del prossimo anno si vota, e per fortuna che in questi due mesi avevo mandato in gara tutta una serie di opere pubbliche, per cui non si fermerà assolutamente niente. Io mi ricandido e mi ripresento. Secondo lei il regista della sua cacciata è l'avvocato Ghedini? Ma questo non lo posso dire. è che la sera in cui c'è stato questo fattaccio, il commissario cittadino, parlando con il nostro segretario nazionale da re, ha detto chiaramente che aveva la delega di Berlusconi. Quindi adesso sai, i comunicati stampa fatti prima o dopo, chi conosce bene la politica sa benissimo che sono delle giustificazioni che non servono, sono i fatti reali. I fatti reali sono una manifestazione di sabato. Voglio dire una cosa personale su questa vicenda. E quindi con la presenza di Totti sul palco, e Parisi a Padova, che doveva dare il suo messaggio contro la Lega Nord. Però i cittadini non sono stupidi, e mi ripresento assolutamente anche da solo, anche con le liste civiche. Anche da solo con le liste civiche. Perché le portate amministrano bene, non le beghe di palazzo. Voglio fare un commento su questa vicenda, perché come sapete io non prendo mai le parti di nessuno, e sto molto attenta ad essere sempre equidistante e superparte. Penso però a una cosa, che è esattamente quella che successe col sindaco Marino a Roma. Quando un sindaco viene eletto dai cittadini, non lo si manda a casa con le congiure di palazzo, perché vuol dire non avere rispetto per il voto popolare.